Ragazzi, si fa un pochettino sullo Stark, perché tanto ha bannato un milione di persone Hanno bannato un milione di persone, un milione di persone, come si dice, un milione di persone Tutti bot Ma perché capita sempre sta immagine poi? Però, allora, dato che ho dei progetti Il progetto in corso che ho è quello di aprire un nuovo canale Un nuovo canale, praticamente Ormai dopo tutti questi anni, mi sono rotto il cazzo Cioè, va bene la passione, però dopo sette anni e 1200 video, tipo, montati, insomma, sapete tutto quanto Mi sono un po' rotto il cazzo Allora, io da YouTube, mensilmente, prendo circa 30 euro in un mese Facendo un calcolo, più o meno sulla corrente, ne spendo 90 O dove non mi diverto, perché registrare non è divertente, come giocare per i cazzi proprio Devo cercare di trovare una chiave nuova Ma come 30 euro sui soldi al mese? Ulteriori 30 euro Ragazzi, ma cosa si dice? Cioè, 30 euro al mese per giornalmente otto ore di lavoro Lo fareste mai? Non credo proprio E calcolate che finché non raggiungono 70 euro, non te li mandano nemmeno Quindi a volte mi li mandano dopo tre mesi 70 euro Hai finito la quest? Ma non so come si toglie Non so che è successo Non so neanche come l'ho fallita in realtà Ma vai a raccogliere pomodori che fai più soldi Conosci qualcuno che vuole qualcuno che raccoglie pomodori? Sono cheat Se conosci qualcuno Quindi qual è il mio progetto? Sperimentare una cosetta nuova Non sul canale principale Non su Edvise Ma dato che mi sono rotto il cazzo di portare quel tipo di contenuti che piace alla fine a pochissimi Perché sono un po' vecchiotti Che cazzo? Non so perché ragazzi Se avessi le risposte risolverai il problema Non lo so Io faccio solamente delle ipotesi Quello che mi è sempre piaciuto fare È quello di usare Un mio pregio Per lavoro Quindi Un pregio che ho Qual è secondo voi? Vai a fare il comico? No Non credo che faccio ridere Essere simpatico? No Nella qualità che Dai Se non me la dite Vuol dire che non ce l'ho realmente cazzo Fai ridere Porca troia Non è quello che intendevo Quindi non è una qualità così tanta esplicita Vuol dire che non posso puntare su questa cosa? Vabbè Niente Allora Interloquire con le persone credo sia il tuo pregio Ma No No Cazzo Non Niente Non posso fare quello che voglio fare Perché nessuno l'ha notato Perché nessuno pensa che sia una qualità E nessuno ci fa caso E quindi È tutto il mio piano che ho elaborato questa notte Dicendo Ah funzionerà sicuramente Finalmente riuscirò a guadagnare qualcosina Facendo questo lavoro Poi andare a fanculo Informatore Ti sembra uno che sa informare? Tutto Tu sei Dio Non credo Pregio Sei naturale Davanti alla telecamera Non ancora La conoscenza E la capacità di critica Grazie Jack Intendevo la voce Intendevo usare la voce Porca puttana ragazzi Intendevo usare la voce Intendevo una qualità La voce Ma a sto punto credo che lo pensi solamente io Per Basta Non Non vi dico manco quello che volevo fare Non mi interessa più Non mi voglio più bene A nessuno Già non mi volevo bene prima Figurati adesso Basta Cioè provare Ho aspettato E che qualcuno la zaccasse Evidentemente non è Non è palese No no va bene Arca Molto tiepida L'opinione sullo Stark Per doppiare gli MMO Non credo Vabbè cosa cazzo vuoi fare Quella voce Se non è l'informatore Ma cos'è il formatore Non è fare il doppiatore Ragazzi Anche perché Per fare il doppiatore Devi essere un Vabbè Grazie Falconero Non è mai d'accordo Quella mia opinione Per fare il doppiatore Dovrei essere anche attore No Il discorso Immaginate un contenuto Che magari può essere Anche solamente ascoltato Quindi Dove vado a narrare Per dirvi la filosofia Dietro a certi personaggi Vi faccio un esempio Banalissimo Perché Sole Snake È così Restio alla guerra E dico Ragazzi Benvenuti in questo Nuovo video Dove Ci sono solamente gameplay Manco la faccia In cui Tipo come faceva Spesso Falconero Non Falconero Nero Wolf Però con più frequenza Più contenuto eccetera Vado a fare qualcosa Che può essere anche Semplicemente ascoltato Dove sì Scherzo Però comunque La mia ironia Ma Mi concentro Soprattutto sulla narrazione Apri una footpage Su TikTok Non credo funzioni E vai a fare l'attore Beh Ci vogliono tanti anni Tipo top 5 No Non tipo quello Ha due libri su Amazon Funziona Tipo un audiolibro No Tipo Tipo racconto Mi scrivo un copione Racconto magari La mia esperienza La filosofia Che penso che abbia Un personaggio importante Di videogiochi Come esempio banalissimo Link Ok mi garba Va bene Dungeon and Dragons Praticamente No Dungeon and Dragons Tu sei il GM Tu racconti le geste Dei tuoi giocatori Ragazzi immaginate Vi faccio un esempio pratico La lore di Nostale È un esempio Durante il periodo A Nozville Vi chiedeva una certa pace E del non so che cazzo dire Sulla lore di Nostale Però imposto un po' più calma La voce Vado a mettere delle immagini E racconto una storia Che non deve essere però Rompicoglioni Noiosa eccetera Ma deve essere Incentrata sul Farvi un attimo Compagnia Mentre fate altre azioni Perché sarà principalmente Un podcast O meglio Qualcosa che potete Anche usare come podcast Intendevo quello Ma è la cosa che sai fare di meno Parlare E dato che magari potrei Potrei usare la voce Proprio per questa motivazione qui Dato che credo che sia Un punto forte Della mia persona Credo Almeno tante persone Me l'hanno detto E comunque mi concentrerei A parlare più lentamente A tenere un tono più adeguato Per il tipo di contenuto E unendoci anche Spesso e volentieri La mia Ironia Potrebbe Nascere qualcosa di simpatico Secondo voi Non lo so È un'idea È un'idea Ma che succede Perché è pieno di insetti Ma dove cazzo siamo Fatti me ne andiamo a concentrare E qua Holyfans No Secondo me Non funzionerebbe Allora Paschio Dimmi cosa funzionerebbe Stronzo Me lo dica lei Mi dà la risposta E se non funzionare Vengo a trovarti a casa Sentiamo Paschio Cos'è Paschio È un momento di rabbia Perdonami Sono un po' agitato Holyfans Ma cosa faccio a vedere Che sono un grassone del cazzo Anche volendo No 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 Non mi mandi il cuore Paschio Adesso mi dici cosa funzionerebbe 40.000 da gamer E così a caso Inizia a fare podcast Ma non i podcast Sulle cellule I podcast I videogiochi Conferto su Discord E a giocare a LOL E a Fortnite Però farlo tipo così E ciao ragazzi Benvenuti tutti In questo grandioso video Ragazzi in questo video Assolutamente voglio vedervi Questa cosa epica Incredibile Ragazzi la cosa che Nessuna di voi si aspetta Ve la mostro immediatamente Ricordatevi La come Le like Ragazzi Subito la campanella Per non perdervi Altre notifiche Eh Va bene Un giorno gli ascritti Le verranno Meglio questa Ma sono Sette anni Che cosa stai dicendo Perché sto continuando A spostare le foglie Che cazzo sono un giardiniere Detto molto sinceramente Ed è probabile Che facendo questo cambio Potresti perdere Tutta la community No ma non È un nuovo canale Jack Il canale è il principale Non mi viene toccato E poi perdere Tutta la community Cosa sono mille persone 30 euro al mese È una bella scioppatina Su un MMO Ma Cosa dici Oddio Falconero Falconero No Falconero Abbiamo appena visto La perdita di Falconero Chiaramente non è Una perdita gioiosa Mi viene da ridere Perché sono emozionato Della tristezza Purtroppo Falconero è morto Ma non puoi venderti Tutto quello che hai Ed andare in Alaska A fare Non credo che Andare in Alaska Va capito Viene washottato Falconero Sei una merda Fa schifo al cazzo Viene washottato Devo chiedere questo Ma che cazzo è Ma Ma poi viene sempre Lo stronzo Non c'è nessuno Aspetto Quattro Quattro Minuti Non c'è nessuno Spawna il corvo Arriva uno Me lo washotta Fammi chiedere sto corvo del cazzo Sono qua da 15 minuti Ma perché gli altri Lo washottano Non gli faccio un cazzo Ma chi la guarda La tua visione filosofica Se non guardano Nemmeno i tuoi gameplay Ma Io non riesco A essere una persona felice Per colpa di Sono Cheat Questo Questa è la verità Sono Cheat Ti porterò Immediatamente In tribunale Prima o poi Perché sei una persona Che mi fa soffrire Ma alla fine Continuando a fare gameplay Diventerai un meme E farei views Ma alla fine Quando? Dopo 7 anni Quale meme poi? Meme di chi? Di voi? Lo sanno tutti Che è successo Arriva dopo 10 anni Ma non credo Vedendo tutti gli altri Non credo che sia arrivato Dopo 10 anni Ma se è un barbone Sta morendo per strada Idea del cibo? Certo Se posso salvarlo Sì Among Us Sono un gioco di merda Per super stronzi Ma ho fatto successo Among Us Oh sono l'impostore Ok finito Among Us Lo stava stuprando Ah Jack Mi rifiuto Di quello che dici No alla guerra No agli animali No al razzismo No al maschilismo Vai via Da questo canale Come per magia Fallo andare via Questo è quello che dicevo Alle media Alle elementari No al media un po' troppo Ma fa il canale ASMR Ma perché? Che cazzo serve l'ASMR? Come lo chiamerai? Il canale? Ehm Mer for locks Non lo so Dovrò pensare Beh sì cosa faccio ASMR Cioè ragazzi Benvenuti in questo ASMR Sentite questo rumore Oh wow È molto bello vero? Oh guardate Guardate questo Popanzetto Questo pacco pop Di Yachi Oh yeah Oh yeah Sentite questo rumore È l'umore della figa Che cazzo devo fare ASMR? Cosa serve? Per fare ASMR Devi avere due belle tette Devi leccare virtualmente le orecchie Allora scala Una scala senza scalau Questa è la tua battuta Kiryu Sei ufficialmente bocciato Della mia simpatia Hi monkey Hi monkey Why had discord? Why not? Arrivo bello Allora se vuoi fare soldi Gioca a FIFA e Fortnite Allora Allora Adesso devo spiegarmi una cosa È il momento che Sono Cheat diventi grande È il momento che Sono Cheat capisca Che cos'è la vita Sono Cheat Nella vita Non bisogna scrivere Quello che si pensa Bisogna scrivere Dopo aver pensato Che quello che si dice È intelligente Perché sennò Sarei sempre bullizzato Sono Cheat Nella tua vita Perdere il lavoro La famiglia Perderà amicizia La tua ragazza Ti tradirà Con 5 persone Se Fosse così facile Se Giocare a FIFA E a Fortnite E avere successo Perché tutti Non giocano a FIFA E a Fortnite E hanno successo Perché Ci sono migliaia Di ragazzini Col deputaglio Ciao ragazzi Bella bro Vi faccio vedere Questo campione Sono molto forte Che provano a fare lol Da un anno Hanno uno spect Che sono loro stessi Perché non basta A portare i giochi Che vanno di moda Soprattutto perché I giochi che vanno di moda Sono anche quelli più giocati Quindi più difficile Essere scoperti Adesso sono cheat Vuoi vedere la tua ragazza Che ti tradisce Con 5 persone diverse E allora pensa Prima di dire qualcosa Non ti permetterò più Calippo Hai capito? Assolutamente Ti chiedo scusa O se no Buonasera Chi cazzo è? Oronzo Lo stronzo Questa è la tua ironia Aronzo lo stronzo Uè Nino come va? In secondo per la mia Sto commentando contro un perrot Porta mette in 2 Allora haha è vecchio Nessuno lo stream Se scrivono per sbaglio Mette in 2 Esci tu sicuramente live Ma chi cazzo è che scrive Per sbaglio mette in 2? Cioè tirano la testata Sulla tastiera E per sbaglio Esce mette in 2 scritto Con una runa forte sopra Ma che schifo No stile Perché ho giocato ancora No stile? Ma perché io mi sto divertendo Anche perché hanno sistemato Anche un po' l'expiro Per i livelli iniziali La resta è molto più facile Vi giuro ragazzi Io gioco a no stile Solamente se ci fosse una persona Che ogni live mi da 30 euro E dico ok Lo gioco Faccio il video livello 1 E quello è il pagamento Oddio sono ritrovato grande Alice nel paese delle meraviglie Allora lo porterei Ma solamente perché penso ai soldi Vi giuro Ha ragione Roby Ma non ho detto nulla Vabbè non guardare il capello Roby perché devi essere così Pignolo Domanda pratica Ok sia Roby che la chat ovviamente Secondo voi Da 1 a 7 Quanto è importante L'altezza in un maschio? In termini di MMORPG O nella realtà? Si è bloccato Roby posso mettere in termini di MMORPG Ovvio in realtà? Nella realtà Sei Nell'MMORPG Quindi invece? Quanto è importante? Se in realtà sei l'MMORPG Quanto? Zero? Tre Tre? Come mai? L'MMORPG È importante tre Perché comunque Non ci fai Tanta Non sai cosa dire? Sì Non so come spiegarmi No non sai cosa dire Ed Stai in chiamata Con uno che filma Quando l'ha scammato Su uno stale E con uno che crede Di vivere negli MMO Sì sì Sono un po' De pazzi Roby al compleanno Ti giuro Ti pago una bella puttana Ah Si è avvitato un compleanno E ti pagano una puttana Hai tante cose Ma lo sai che sono fidanzato Vero? Lei è il problema Scusa Perché hai dovuto specificarlo? No 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 aspetta Mi spiega Perché hai dovuto specificarlo Perché hai qualcosa da nascondere C'è una persona che è fidanzata Ed è fedele Non c'è bisogno che lo specifichi Mi passi Tra la tua compagna Devo un attimo dire una cosa Non è qui Abitiamo in due cose diverse Certo non è qui Certo L'altezza è negli MMO Non è qui Tutti i vostri caldi Sei proprio un vecchio porco Grazie Marco per la sub E per te Alex Per me l'altezza conta Solo maschile o anche femminile? Maschile Ok Maschile Nei rapporti Conta un bel 5 6 su 7 Secondo me Nel rapporto in che senso? Nel rapporto di senza fidanzato Intendo E senza fidanzato Conta diversamente? Eh sì Sì perché qualsiasi ragazza Prende subito Ah no Ma andiamo giù di sopra Dai Bra 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 Così non si capisce un cazzo eh Complimenti Devi perdonarlo Alex Stasera è un po' pazzerello Roby Quanto conta per te Nelle relazioni E quanto nella vita Non so cosa vuol dire Cioè relazioni divisa vita Ok A me personalmente Dell'altezza Non me ne può fregar di meno Mentre invece Nelle relazioni Vedo che comunque La maggior parte Per quanto mi sia capitato Delle ragazze Va cercando Un maschio Che sia più alto Di lei Sì Sì bravo Esatto Creppo mi sa che servirebbe Anche a te Una bella puttana Per svegliarti No ho già fatto Tranquillo Prima ho citato Alla regina Elisabetta No Il meme Del nintendo sotto il cuscino E della mamma Con la ciabatta Tutti come me del cazzo No Di cose che Sono accadute due volte Nella vita E tutti le memono Perché non hanno Nessun tipo di idea Ho prima letto La cosa peggiore In una chat di twitch Prima di andare in guerra In ucraina Ovvero C'è da tenere conto Della regola Della L Dio mio Che è un meme Più o meno del 1824 Siamo lì Dal livello di data La regola della L Per chi non sapesse È alto Cazzo piccolo Basso Cazzo grosso Vorrei capire La minchia di se freddi Di un uomo Alto 1 metro 90 E c'è una minchia Che è tanta Infatti la regola della L Nel mio caso Non fa conto Ma non fa mai conto È una cosa Che si sono aumentati I bassi E da ragazzini Ci siamo tutti Innamorati Di Miley Cyrus Mentre cantava Wrecking Ball Guarda A parte che Quando ho cantato Wrecking Ball Avevo già 42 anni Io personalmente Però al di fuori di questo Miley Cyrus Io se potevo La tiravo sotto Col trattore E le vomitavo Non avrei toccata Manco con la mano Di un altro Quindi nessuno Si è innamorato Di Miley Cyrus È la ragazza più Orribile che abbiamo visto Secondo i miei standard Grande Miley Se come mi segui Manda sicuramente I tuoi soldi Però Calippo ha una visione Troppo fiabesca Della realtà Deve capire Che se ha le ragazze La canti Bene Ultimo ti scopano Bravo Jack Sono d'accordo Ma perché stai parlando Di queste cose A sto punto posso dire Eh vabbè Ma tanto se voglio scopare A me basta il cazzo Eh cioè Scusami Io almeno Cerco di andare Un pochino dentro Che ne so Dentro l'atmosfera Cioè a me piace L'idea del romantico Che so che per certe persone Non resiste Perché Ah ma io gli schiaffo il cazzo E vado duro No Calippo No Sono per cortesia Ho paura Non voglio più giocare Allo Stark Calippo Ho paura Non lo faccio più Ok E chi è la ragazza Più bella Che hai visto Marisarus è bellissima No per me Marisarus Dille tu Dille tu Dille tu Platinetto è la ragazza Più bella Che hai mai visto Io personalmente E la Sab Roby Eh la devo rifare Babà Mamma mia A chi l'hai fatta La Sab A Curo Lili L'hai fatta Eh A chi l'hai fatta Asmongald A Grimald Eh no Veramente l'ho fatta A Jumpy Allen Però Vedi il lato positivo A te L'ho fatto Con Con i sordazzi Eh ma non cambia niente Scusa A chi A chi l'hai fatta Eh Jumpy Allen Uno che Porta Mobba Wildrift Per Mobail Porta un Mobba Per Mobail E tu hai fatto la Sab Uno che porta Mobba per Mobail Tu hai fatto la Sab Uno che porta Mobba su Mobail Devo vivere in questo mondo Marte Marte può essere La mia vita Devo istituzionare Una persona Devo essere Dittatore di Marte E capire Che la gente Deve iniziare a ragionare E non portare Mobba su Mobail Non so se l'hai capito Mobba Mobile I'm pregnant Che c'è scritto? Ma perché Da quanto Da quanto tempo c'è Questa cosa? Perché nessuno gioca A palazzo Mi spiegate perché Nessuno gioca A palazzo 66 Per favore Perché il mio pc Esploderebbe Perché fa cagare Paschi Ma cazzo Dici Ma è leggere O leggere Ah è leggere O leggere È vero È leggere O leggere E innamorati O innamorati Eh ragazzi Puoi rispondere anche tu Calippo se te la senti Peso forma O peso forma No Non hai capito il gioco Peso forma Non esiste Però Innamorati E innamorati Esiste No E si scrive La stessa maniera Anche leggere E leggere Si scrive la stessa maniera Non senza l'accento tonico Che tanto nessuno È fermati O fermati Cosa c'entra Peso forma Peso forma Inforno Inforno Ecco Cosa vuol dire Inforno Inforno Ma lo metti L'accento su Inforno È l'inforno Ma lo metti L'accento Lo scrivi Lo scrivi L'accento su Inforno Ma avete capito Siete tutti stronzi I miei convenuti Va schifo Inforno L'accento Lo metti Cioè Innamorati E innamorati Non lo metti L'accento Leggere O leggere Non lo metti L'accento A parte il tonico Ma nessuno Usa il tonico Capito Su fermati O fermatini Non lo metti L'accento Ma è meglio Un culo ghiacciato O un ghiaccio nel culo Mi sa che i pidocchi Sapete che da piccolo Sono stato bullizzato Per colpa dei pidocchi Grazie per la compassione Che avete espresso In queste parole Ragazzi Mi sento molto meglio Mi fai una persona Capace di parlare Il latino De gustibus De facto Non sputtamando un mest Ma che schifo Queste parole Allora ragazzi Io Vi faccio Vi memo Cioè vi mimo Volevo dire Scusatemi Una conversazione Con una persona Tipica Che vuole sentirsi Sto cazzo E come va a finire Io parlo Beh Cosa ne pensi Di questo gioco A me piace E perché ti piace È un po' bruttino Perché ti piace Guarda De gustibus Schifosi Schifosi Queste cazzo di parole De gustibus De facto In primis In secundis Siete delle merde Ma è accetta O accetta Eh Vedi E pesca o pesca Roby Dica Da quante sei fidanzato Cinque lunghissimi anni La tua ragazza Ti ha mai visto Sì Avete mai parlato Sì E dopo averti parlato Ha scelto di comunque Continuare a essere la tua ragazza Sì Ok Ok Era domanda No non era domanda Cioè era Semplicemente una domanda In Ok Ok Roby tu hai La volontà di vivere In un mondo come Sword Art Online No Ma non ti piacerebbe Entrare in MMO A giocarlo Eh Tipo Con il Nerve Gear Come Sword Art Online Sì Perché senza la comodità Di usare Cioè senza la scomodità Sword Art Online Sword Art Online Tu Calippo Sei quello che si chiami Sword Art Online Quindi io che lo chiamo Sword Art Online Sbaglio Egnanti del cazzo Sword Sword Art Online Sword Take my sword Non è sword Sword Non è sword Sword Non è sword È sword 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 Non è Sword L'hai visto Sword Art Online My friend Brother Roby anche il mio cane Sta crepando Cosa Non ho capito Ed maggiore di Grimbaud Ma mi posso chiedere le palle Grimbaud Quello stronzo No scherzo Si fa una collaborazione Guarda Già una cosa che si chiama Cacciocavallo Non la mangerai mai Proprio per Per partito preso Cacciocavallo Mi rifiuto Ma perché No Io allora Certi nomi Che hanno degli alimenti Non le mangerai mai Tipo cosse Ma solamente perché si chiamano cosse Non le mangerei Cacciocavallo Che cazzo è Gorgonzola Mascarpone Ma che Come fai a mangiare Cacciocavallo Mascarpone Solamente per il nome Non lo mangio Ah ok Wed Scusa il ritardo Losax Non devi per forza Insultarti Ero in una sessione Di grinding Su BDO Allora va bene Comunque ragazzi Io vi devo salutare Non vai da nessuna cazzo di parte No te caro Grazie per la compagnia Ti saluto anch'io Nino Che vado a dormire Ero la vaffanculo Tutti anche in live Ehi ciao Ti consiglio di guardare D'altri video FALLO Ero la vaffanculo Ero la vaffanculo Ero la vaffanculo